Via libera dell'aggiunta comunale al protocollo di intesa con l'ASL Salerno per la riapertura del centro di urno Alzheimer, chiuso lo scorso 23 novembre da Inas. L'esecutivo ha dato mandato al settore educativo e socioculturale affinché ponga in essere tutti gli adempimenti burocratici e dal settore tecnico affinché risolva le problematiche di carattere strutturale per rendere adeguata la struttura. Una buona notizia per le famiglie dei malati di Alzheimer che una volta siglato il protocollo potranno usufruire nuovamente del servizio.